Pace e bene, cari amici telespettatori di Teleradio Padre Pio, un saluto caro a tutti voi, siamo qui in Costa Rica nella parrocchia Corpus Christi San Pio da Pietrecina nella città di Eredia, proprio a ridosso della capitale San José di Costa Rica, in questo luogo, in questa parrocchia che è guidata dal parroco padre Gabriel Corrales e si è sviluppata nel corso degli anni, per opera proprio di questo sacerdote, una grande devozione, un grande amore a San Pio da Pietrecina, lui ha avuto un'esperienza molto singolare nel suo ministero sacerdotale con padre Pio, ne è diventato figlio spirituale, accompagna ogni anno numerosi pellegrini dal Costa Rica a San Giovanni Rotondo, ci siamo conosciuti lì e questa è la seconda volta che padre Gabriel mi invita a visitare i gruppi di preghiera e anche i devoti figli spirituali di padre Pio, molto numerosi e molto ferventi qui in Costa Rica. Lo scopo di questo viaggio pastorale direi che è quello di accompagnare questa comunità parrocchiale che si avvia verso un santuario in onore di San Pio da Pietrecina, difatti questa parrocchia è diventata punto di riferimento per tutto il Costa Rica, per tutti i figli spirituali, devoti di padre Pio, gruppi di preghiera che qui si danno appuntamento soprattutto nel giorno 23 di ogni mese per ricordare e per celebrare la santità di padre Pio e per volontà dell'Arcivescovo di San José di Costa Rica questa comunità dovrebbe nell'immediato futuro diventare santuario diocesano e poi anche nazionale di San Pio da Pietrecina. Allora padre Gabriel mi ha invitato appunto per accompagnare, per illuminare questo processo di avvio verso il santuario di padre Pio e per stabilire un nesso, una comunione con il nostro santuario di San Giovanni Rotondo. Il nostro viaggio ha un'agenda molto fitta di impegni, di incontri, di iniziative, alcune molto significative, anche un incontro con il consiglio dei gruppi di preghiera qui del Costa Rica per illuminare alcuni aspetti che a loro non sono ancora molto chiari di come guidare, come accompagnare il cammino di fede di questi fratelli. Una giornata proprio di incontro, di fraternità e di preghiera con tutti i gruppi di preghiera del Costa Rica in questa zona per un incontro fraterno, per un'eucarestia, per un momento di riflessione molto importante. La visita all'ospedale dei bambini, all'ospedale pediatrico di San José di Costa Rica, una visita a tutti i bambini che sono lì ricoverati, ai loro parenti e anche al personale medico, sapete che c'è anche un accordo di collaborazione molto stretto tra la casa sollievo della sofferenza e proprio questo ospedale pediatrico di San José di Costa Rica e un altro ospedale della città di Costa Rica. Una visita in un quartiere molto povero, molto disagiato di San José di Costa Rica dove il padre Sergio opera a favore dei bambini abbandonati, bambini della strada, potremmo dire come si dice normalmente, che lui ha raccolto non solo qui in Costa Rica ma anche in altri paesi del Centro America e anche degli Stati Uniti, raccogliendo circa 35 mila bambini ai quali dà tetto, cibo, educazione e soprattutto grande affetto. Un incontro con personalità molto distinta sia della Chiesa sia nell'ambito civile. L'arcivescovo di San José di Costa Rica, Monsignor Ugo Sbarrantes che è un grande devoto, ammiratore di Padre Pio. Il Presidente della Repubblica che è una donna, la signora Laura Cinciglia, che lei e alcuni dei suoi ministri del suo gabinetto sono particolarmente legati alla figura e alla santità di Padre Pio. Un incontro anche con il Nunzi Apostolico qui in Costa Rica, un raduno molto importante, possiamo dire nella palestra comunale di San José di Costa Rica, con un momento di adorazione, di preghiera, di incontro con tutto il mondo dei figli spirituali, devoti, amminatori di Padre Pio. Altri momenti significativi di questa visita, nella basilica dedicata a Santa Maria degli Angeli che è la patrona del Costa Rica, c'è una grandissima devozione per questa Madonna. Il giorno 2 agosto che la festa vede una presenza massiccia di pellegrini che confluiscono da tutto il paese e molti dei quali vengono a piedi con grande sacrificio per onorare e venerare questa immagine molto piccola ma molto cara al popolo del Costa Rica della Madonna degli Angeli. Capucini di Cartago, nella città di Cartago dove si trova tra l'altro lo stesso santuario della Madonna degli Angeli, avremo una carestia nella loro chiesa e un incontro fraterno con questi confratelli. Una visita lampo di un giorno e mezzo alla città di Panama dove operano alcuni frati Capucini in un quartiere molto povero a ridosso della città dove sono confluiti persone provenienti da tutto il paese in cerca di migliori condizioni di vita, di lavoro. La città di Panama è una città molto moderna con grattacieli veramente straordinari e quindi in via di costruzione c'è molto lavoro, la gente viene lì per lavorare ma si sono creati questi grandi quartieri vicino anche all'aeroporto dove i Capucini operano in condizioni molto disagiate, di grande povertà ma molto vicino alla gente. Io affido questo viaggio ovviamente a San Pio da Pietrecina, alla Madonna delle Grazie perché la mia presenza qui possa essere significativa per incoraggiare, per stimolare, per accompagnare questo cammino di fede che soprattutto i gruppi di preghiera di Padre Pio stanno compiendo con grande entusiasmo e da sottolineare la presenza di tanti giovani, persone giovani e giovanissimi che fanno parte di questi gruppi di preghiera che si ispirano a Padre Pio, che vogliono conoscere, approfondire la spiritualità di Padre Pio e che vogliono davvero fare un cammino di fede sotto la guida del nostro caro amico Padre Gabriel che ha dedicato, consacrato veramente tutta la sua attività pastorale alla devozione, alla diffusione della devozione di Padre Pio. C'è da sottolineare che questa devozione del Padre Pio in Costa Rica è piuttosto antica ed è stata soprattutto opera di un sacerdote che ha operato qui, che era molto legato a Padre Pio, che lo ha conosciuto, che lo ha incontrato e lui viveva a Cartago e lui ha iniziato, in questa cittadina, città di Cartago dove è il santuario della Madonna degli Angeli, ha iniziato lì a lavorare, a creare, a formare i primissimi gruppi di preghiera e a diffondere questa conoscenza, questa devozione, questo amore a Padre Pio che poi è andato prendendo piede e ormai ha veramente incendiato questo piccolo paese del Centro America e quindi veramente la devozione a Padre Pio ha radici molto antiche e molto profonde, quindi noi affidiamo veramente a Padre Pio, alla Madonna delle Grazie, questo nostro itinerario in questo viaggio pastorale che possa essere veramente di grande giovamento sia per questi fratelli, sia un popolo generoso, allegro, affettuoso e come sia legato veramente alla persona di Padre Pio che io indegnamente rappresento e che loro vedono veramente in me come se fossi quasi Padre Pio, quindi è un popolo veramente innamorato di Padre Pio, auguri e che questa testimonianza che noi possa anche essere di grande incoraggiamento per tutti gli ascoltatori, gli spettatori di Teleradio Padre Pio anche in Italia e in tutto il mondo. Pace e bene a tutti!